A prima vista, ti piace questa SF15T? Partiamo dal presupposto che come diceva Enzo Ferrari, la macchina bella è quella che vince. Poi guardiamo quella dell'anno scorso, era brutta e perdeva pure, però devo dire che questa è molto molto bella. Del mio punto di vista è una Ferrari veramente sexy. Hai detto a Natale che due vittorie sarebbero già una soddisfazione. Confermi questo approccio per la stagione? Sì, assolutamente sì. Tanti pensano che con questa dichiarazione si voglia mettere le mani avanti. Non vogliamo mettere le mani avanti, siamo più realisti del re. Ci siamo trovati un certo tipo di situazione, la macchina non si costruisce in tre secondi, c'era già. Alcune modifiche sostanziali sono state fatte, in base ai tempi che erano comunque molto molto ristretti. Qualcosa si sta muovendo, secondo me, si sta muovendo nella direzione giusta. Detto ciò, confermo assolutamente quello che ho detto. Sebastian Fette è l'uomo nuovo in squadra. Kimi Raikkonen ha il ruolo del veterano, per così dire. In che modo possono integrarsi a loro nel lavoro? L'hai detto tu. Dovranno integrarsi, soprattutto lavorando insieme. Il mio compito sarà quello di evitare che si creino gruppi e gruppetti. Si lavora tutti in una direzione che è la direzione della Ferrari. Non che l'anno scorso ci fossero dei gruppetti. Penso proprio di no. Ma se ci fossero stati, quest'anno sicuramente non ci saranno. I due ragazzi lavoreranno insieme, lavoreranno insieme in una squadra e tutta la squadra lavorerà con loro e per loro. Ma soprattutto, come dicevo prima, per la Ferrari. È già anche tempo, anzi è sempre tempo, di discussioni anche a livello globale per definire un po' il futuro rassetto della Formula 1. Come si pone la Ferrari in queste discussioni? La Ferrari è un'azienda che ha fatto ed è la storia della Formula 1. Quindi credo che la nostra voce sia una voce importante. Con questo non deve essere l'unica voce, ma nemmeno altri devono far valere la propria voce come se fossero dei diktat per tutti. Ci vuole un'evoluzione della Formula 1, ha detto qualcuno. Io ripeto, alla Formula 1 di oggi non basta un'evoluzione, ci vuole una rivoluzione. Bisogna ritornare tra la gente, far appassionare la gente, che non significa solo portare lo show, quantomeno il giovedì, fuori dai circuiti, ma significa avere delle macchine belle, avere delle macchine competitive, far divertire il pubblico e possibilmente da parte nostra vincere. Nuova la monoposto e tutta nuova anche la squadra, anche a livello dirigenziale. Cambia qualcosa nella filosofia? No, la filosofia resta invariata. La filosofia parte dal fondatore, da Enzo Ferrari, e questo è, come dicono gli inglesi, la core value per tutti noi. Tutti devono fare il loro dovere e quindi non c'è una filosofia di serie A, di serie B, una filosofia che è detta qualcuno o qualcun'altro. Deve essere chiara per tutti. Quello che c'è da fare è ricostruire un team, dar fiducia alle persone e andare avanti tutti a testa bassa. E l'obiettivo, è inutile che lo ripeta, è chiaro per tutti.